Questo giovane ha avuto un riconoscimento molto importante per i suoi studi in materia di ricerca scientifica, tra l'altro dalle mani del Presidente della Repubblica, Mattarella, come miglior fisico italiano sotto i 35 anni. Michele Cicoli, che anche se non è un cittadino nostro perché attualmente di sede a Bologna, però la cui famiglia è molto legata al nostro comune. Sarà presente anche il sindaco di Fano Massimo Seri, in quanto i genitori di Michele Cicoli risiedono a Fano, e in più anche il Vice Presidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi, perché penso che anche la Regione, insomma, di fronte a queste occasioni è importante che sia presente.